Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi torniamo con una nuova puntata della Month's Legacy Challenge. Allora, siamo ancora con Sabrina, ovviamente, perché siamo ancora in pieno mese di settembre, almeno nel gioco, e quindi però ci saranno degli aggiornamenti ovviamente sulla nuova generazione di Annabelle. A parte, voglio aprire una parentesi perché non ho detto nulla riguardo la nuova espansione, io l'amo, alla follia. Come magari molti di voi possono immaginare, dopo aver visto Ti sposi o muori, o altre mie serie, cioè è l'espansione della mia vita questa, letteralmente. E infatti la userò, perché mi sembra che i tempi coincidono perfettamente, la userò ovviamente con Annabelle, quindi la vedremo. La vedremo, non vi dico cosa farò, ma la vedremo appunto anche con Annabelle. Ma torniamo a noi, ovviamente a Sabrina, che continua a fare yoga, è diventata bravissima. Ah, e ha questo nuovo taglio, perché mi sembra che nell'altro aggiornamento non aveva questo taglio. O sì, non me lo ricordo, va bene, nel caso ha questo nuovo taglio, se no se l'avete già visto non c'è nulla di nuovo. Che le sta benissimo e le dà questa aria proprio da maestra, o meglio professoressa, molto severa e anche come madre severa, madre e moglie molto severa. Perché sì, lei è così, è così. Quindi lei ovviamente continua a fare yoga, ce l'ha anche a casa nel suo giardino, cucina tantissimo. Anche se arriverà un periodo in cui Sabrina si stuferà di cucinare, perché praticamente la babysitter verrà automaticamente a vivere a casa nostra e cucinerà tutto il tempo. Quindi Sabrina non cucina più, in poche parole. Ma fino a quel momento Sabrina cucina, fa le cose di casa, adora la sua famiglia, adora la sua cagnolina Dolly. E boh, continua la sua vita immacolata in tutti i sensi, nella pulizia, nell'ordine della casa, a fare le solite cose, a fare le sue mille cose. E anche a cercare di educare Annabelle. Ma Annabelle non ne vuole sapere niente. Dice, senti, lasciami in pace, donna. Io non voglio assolutamente imparare le tue cose. Annabelle veramente già da bebè si dissocia da tutti i comportamenti della sua famiglia. Non li sopporta. Non sopporta appunto tutte le cose che fanno le loro, tipo, eh ma Annabelle adesso sono le due, quindi tu alle due devi studiare. Ma col cavolo io alle due voglio fare qualcos'altro. E quindi lei prende e se ne va letteralmente. Non è per niente d'accordo. Ovviamente l'alchimia tra Isaac e Sabrina continua. Infatti ho sorpreso Sabrina a fare il bacio casqué a Isaac. Io no, vabbè, non ce la posso fare con questi due. Cioè è bellissimo, bellissimo, veramente. E Annabelle appunto con il fatto che si dissocia dalle regole della casa. Me la trovo spesso a dormire anche in salotto. O ovunque, tranne che nel suo letto, a meno che non ce la portano a forza. Perché Annabelle è una ribelle, non fa assolutamente nulla di quello che gli dicono i suoi genitori. Poi ovviamente abbiamo Melissa che invece è la perfettina della casa insieme a suo fratello Noah. Infatti Melissa ama essere perfettina. Ama proprio che i suoi genitori l'ammirano. Le dicono che è perfetta, che vogliono una figlia come lei. Cioè vorrebbero che anche Annabelle fosse come lei. E poi vi ricordo che appunto Melissa era quella che urlava e sbraitava per ogni singola cosa. Ecco, da bambina si è calmata, diciamo. Perché ci sono delle cose che fa, ma ve le dico più avanti. Noah pure è il bambino perfetto. Segue le regole della casa. Fa i compiti senza che i genitori glielo dicono. Fa i progetti scolastici senza che i genitori glielo dicono. Ed escono sempre perfetti. Praticamente Noah è una copia, cioè non so perché magari hanno lo stesso colore dei capelli. È una copia sputata di Sabrina al maschile. È uguale! Cioè nelle cose, nei modi di fare ovviamente, nelle cose che fa. È uguale a Sabrina. Letteralmente. Poi qui c'è Annabelle che mangia grazie alla benevolenza della babysitter. Che appunto Annabelle gli va a chiedere da mangiare. Lei dice sì certo ti do da mangiare. E niente, questa è una foto che ho fatto a Melissa che è molto felice. A lei, Melissa, adora recitare. Adora proprio il club di recitazione. È il suo passatempo preferito. Ci va molto volentieri. E ogni scusa è buona per dimostrare, far vedere quanto è brava a recitare. Quindi a volte si mette a fare delle recitazioni così in casa. Per far vedere quanto è brava. Questa è la babysitter che si è stabilita a casa nostra. Però meglio perché praticamente si occupa tantissimo di tutte e tre i bambini. In realtà più cucina tutto il tempo. Però si occupa anche tantissimo di Annabelle. In modo che praticamente così i genitori non se la calcolano proprio più ad Annabelle. Cioè Annabelle sta crescendo come Sabrina da bambina. Ma già da quando è nata, se vi ricordate, la prima a tenerla in braccio è stata la babysitter. E se non erro questa babysitter che si è stabilita a casa mia. E continua. Cioè praticamente dopo che è nata Annabelle questa si è trasferita. Quindi ha detto senti meglio che mi trasferisco. Perché se no qua la bambina fa una brutta fine. Ha percepito il pericolo. E ha deciso di venire a casa mia. Annabelle ovviamente fa guai su guai. È sempre lì appunto a fare tutte le cose che Sabrina odia. Quindi anche soltanto appunto mettere le mani nel gabinetto. Gli altri due figli non l'hanno mai fatto. A parte va bene a sporcare un po' in giro per casa così. Ma niente di che. Però Annabelle nonostante la sgridano continua a fare appunto le cose che le vietano di fare. E niente Sabrina non la sopporta questa cosa. Questa appunto è Melissa che torna dal club drammatico. O ci sta andando. Comunque adora fare teatro. E poi arrivano ovviamente le festività. Infatti c'è la festività come Halloween e Natale. Però se notate in queste foto non c'è Annabelle. Praticamente loro fanno queste foto a cartolina da mandare appunto ai loro amici no? Tutte le amiche perfette di Sabrina. Con i loro figli perfetti per invitarle appunto alla loro festa spettrale. E loro... Cioè Annabelle non c'è. Perché comunque Annabelle non vuole fare le foto. Quindi per mettersi costume deve litigare Sabrina per cercare di mettere il costume eccetera. Allora gli dice senti fai quello che vuoi. Io non ti metto nella foto. Ma in foto è niente. Non me ne frega proprio niente. Quindi senza di colpa zero. E la esclude completamente dalle foto di famiglia. Quindi in tutte e due sia in quella di Natale che in quella di Halloween. Annabelle non ci sarà. E praticamente dove sta Annabelle mentre la famiglia scatta queste foto con il fotografo. Praticamente Annabelle sta dall'unica non persona. Dall'unico essere vivente che le vuole bene in questa casa Dolly. Infatti va sempre d'accordo con Dolly. Dolly sta sempre con lei. La cerca e lei è molto contenta. Se abbracciano l'adora. Quindi dice non mi frega niente delle vostre foto di famiglia del cavolo. Io mi diverto molto di più con il cane. E fai bene. Fai bene bambina. Poi qui nella foto di Natale. Che appunto. Che poi non era nemmeno Natale quando hanno fatto questa foto. Praticamente si sono portati avanti. Per fare. Visto che hanno chiamato il fotografo per fare la foto di Halloween. Si sono portati avanti per fare la foto anche di Natale. Quindi hanno allestito l'albero di Natale. L'hanno fatto vestire tutti quanti a Natale. Per fare. Visto che c'è la fotografa. Per non pagarlo una seconda volta. Per fare anche la cartonina di Natale. Che poi avrebbero mandato a Natale. Quando la gente si porta avanti giustamente. E infatti Annabelle ha ancora maggior ragione. Anche se era piccola non capisce. Dice col cavolo in metà a fare queste cose. E poi Isaac e Sabrina. Ovviamente hanno un sacco di effusioni. Anche in pubblico. Dovente i loro figli. Che non apprezzano per niente. E poi si sono messi a fare l'albero di Natale. Per appunto fare la foto. Mentre Isaac le dedicava a poesie d'amore. Tutte cose sdolcinate. E io sono praticamente Melissa lì. Che dice. Oh mio Dio. Ma quando è che la smettono questi due? Non ne posso più. E in tutto questo. Mentre appunto. Loro facevano l'albero di Natale. Si divertivano. Mentre aspettavano di fare la foto con il fotografo. Annabelle era in salotto con loro. Ma comunque non è rientrata nella foto. Ma stava sul divano a leggere con la babysitter. Perché ad Annabelle piace tantissimo leggere. E quindi la loro vita continua così mutata. Come abbiamo visto nello scorso aggiornamento. Quindi sempre perfetta. Con le loro cose da fare. Sabrina con le sue attività. Isaac con le sue attività. I bambini pure. E praticamente però arriverà qualcosa. O meglio qualcuno. A sconvolgere questa tranquillità. Questa calma apparente che c'è appunto in questa famiglia. Così perfetta. Così monotona. Che hanno appunto le loro cose da fare. E le fanno praticamente tutti i giorni. Infatti una figura completamente vestita e incappucciata. Inizia ad avvicinarsi alla casa. Si avvicina sia di giorno che di notte. Va a controllare. Non si avvicina troppo alla casa. Soprattutto se vede appunto membri della famiglia. Che gironzolano lì nella casa. All'esterno anche in giardino. Quindi va solo a spiare. Inizia a spiare, spiare, spiare. Ma chi è questa figura incappucciata? No, non è la strega cattiva di Biancaneve. Anche se potrebbe benissimo fare quella parte. E Pearl. Infatti Pearl è tornata dopo tantissimi anni di latitanza. Ha deciso di tornare. Perché ovviamente vi ricordo Pearl. Alla fine sono arrivati a capire chi... Come è morto ovviamente il marito di Pearl. Chi è stato ad ucciderlo. Perché poi lei è sparita. Quindi... Cioè... Già la prima sospettata. Il primo sospettato è sempre il marito o la moglie. Tu pure sparisci. Quindi praticamente c'è. Poi spariscono i soldi. Quindi... Cioè avevano tutte le carte. Tutte le prove per accusare e arrestare Pearl. Peccato che lei non si è mai fatta trovare. Perché comunque ovviamente è andata in paesi, in stati. Fuori dalla giurisdizione di questo. Quindi praticamente non la potevano arrestare anche se stava lì. Anche se l'hanno trovata. Sapevano che stava lì. Non potevano arrestarla. Però appena lei avrebbe messo piede qui. L'avrebbero potuta arrestare. Quindi anche adesso che sono passati un botto di anni. Se la vedono la possono arrestare. Infatti per quello lei va in giro completamente incappucciata. O comunque con veli, con cose che le coprono appunto parte del viso. Per non farsi riconoscere. Anche se è invecchiata. Però ovviamente loro hanno fatto. Pensando ovviamente questa cosa. Ha detto o è morta o è invecchiata. Non si sa mai. Facciamo un identikit. Invecchiato appunto della sua faccia. Quindi comunque potrebbero riconoscerla. O magari qualcuno che le conosceva. Così quindi preferisce non farsi scoprire. Ma va continuamente a su rischio e pericolo a casa di Sabrina. E va lì anche di notte. Cioè super inquietante. Però non è entrata con la forza in casa. Resta solo fuori. Però quando è notte. Che appunto tutti i membri dell'unità familiare dormono. Olle si avvicina molto di più alla casa. Al posto di stare dietro l'albero a curiosare. Si avvicina. E è andata persino a controllare la posta. Per vedere appunto che cosa ricevevano. Chi erano gli altri membri dell'unità familiare. Come si chiamavano. Cioè tutte queste cose qua. E poi si è messa a suonare il violino. Cioè così. In piena notte. Cioè proprio stile inquietante. Questa in piena notte davanti alla casa di sua figlia Sabrina. Che si mette a suonare il violino. Però vi ricordo che il violino è sempre stata la passione più grande di Pearl. Che se non avesse fatto. Cioè se lei non avesse fatto questa vita. Da piccola. Da bambina. Quando era ancora una bambina innocente. Voleva diventare una musicista famosa. Era questo il suo sogno. Però poi tutto è andato a rotoli. E poi appunto. Dopo che ha appreso le informazioni appunto. Sui membri dell'unità familiare. E inizia a controllarli uno a uno. Quindi inizia a controllare Isaac. Per vedere se è come suo marito. Che a parte il suo marito non ha fatto niente di male. Precisiamolo. Però vabbè. Inizia a controllare Isaac. Per vedere com'è. Cosa fa. Cosa non fa. E poi inizia a controllare i bambini. Ma soprattutto una bambina in particolare. Melissa infatti cerca di avvicinarla. Perché. A parte che la vede tutta così perfettina. Che è vestita appunto per andare a teatro. Va a teatro. Cioè. Le ricorda troppo. Lei da bambina. E quindi dice. Secondo me con questa bambina. Abbiamo delle cose in comune. E giorno dopo giorno. Continua a controllarle. Eccetera. Prova a parlarci. Cosa non ti ha insegnato Sabrina? Avrò un parlare con gli sconosciuti. Dannazione. Perché non gliel'ha insegnato? No vabbè. Sabrina gliel'ha insegnato. Ovvio. Però Melissa fa di testa sua. Sempre fatto di testa sua. E quindi vede questa donna avvicinarsi. E inizia a parlarci. Lei appunto le parla. Amorevole. Tutta carina. Dolciosa. Così. E le offre anche delle caramelle. Melissa le accetta. E questa è la prima cosa che ti insegnano. Non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Ma lei viola tutte le regole che ti danno appunto i genitori. E quindi inizia a parlare appunto con questa donna. Così. Cioè comunque sono davanti casa. Non è che sono isolate chissà dove. Stanno davanti casa. Cioè Pearl proprio la sfacciataggine di stare lì davanti casa a parlare con la figlia. Cioè con sua nipote. Quindi Sabrina potrebbe uscire da un momento all'altro. O a parte credo che era al lavoro. Quindi non mi ricordo di preciso. Però comunque se era a casa potevo uscire da un momento all'altro e trovarla. Spoiler no. Nessuno l'ha vista. Ha parlato per tutto il tempo con Melissa. E non è successo niente. Nessuno dell'unità familiare è venuto a parlare con Pearl. Passano i giorni. E Pearl continua a creare questo rapporto con Melissa. Quindi la va a prendere a scuola dopo che finisce appunto le lezioni di teatro. E poi la porta al centro comunitario e si mettono a giocare. Infatti questo è un altro look di Pearl. Sempre con il... Non con il cappuccio. Con il foulard. Per non farsi riconoscere praticamente. Per rendersi più mimetizzata possibile. Anche perché non ha più gli oggetti... I vestiti costosi. Gli oggetti di valore che aveva prima. L'unica cosa che le è rimasta è la collana di Pearl. E basta. Che a parte ce l'ha pure Sabrina. Però forse a questo punto stavo pensando che Sabrina è una falsa copia. Perché Pearl ha continuato ad avere la sua collana di perle vere. E quindi secondo me Sabrina ha una falsa copia della collana di sua madre che si era messa. Solo che non lo sa. Pensa che sia quella vera. E comunque quindi Pearl che fa? Si avvicina tantissimo a Melissa. Si chiama Melissa. A Melissa. E con la scusa che Bola porta al centro comunitario. Giocano, parlano eccetera eccetera. Fino a quando ovviamente Pearl glielo dice a Melissa che è sua nonna. Quindi si, si svela. Svela il suo segreto. Gli dice guarda che sono tua nonna. Tua mamma si chiama Sabrina. E sono la sua mamma. E conosco tutto di voi. Perché tua mamma mi manda un sacco di foto di voi. Bugiarda. Bugiarda. Non si dicono le bugie ai bambini. Sì, le dice appunto che lei ha un bellissimo rapporto con sua mamma. Che però non è mai riuscita a venirle a trovare. Perché comunque viveva lontano. Ma sa tutto di loro. Sa appunto che suo fratello si chiama Noah. Il primo genito. Poi c'è lei. E poi c'è un'altra bambina che si chiama Annabel. E poi appunto soprattutto per farsi amica una come Melissa. Pearl lo sa benissimo perché la sua copia è spiaccicata. La loda tantissimo. Le fa un sacco di complimenti. Le dice appunto col fatto che è andata a prendere la recitazione. Anche visto le sue come recite eccetera eccetera. Quindi le fa un sacco di complimenti su queste cose. E praticamente lo scopo di Pearl qual è? È quello di entrare in casa. Quindi convince Melissa a farla entrare in casa. Per andare a conoscere. Cioè non per andare a conoscere perché già li conosce. Tra molte virgolette. Gli altri membri della famiglia. Quindi per andare a trovare gli altri membri della famiglia. Melissa non ci vede nulla di male. Alla fine sua nonna. Che fa? Non mi faccio entrare mia nonna a casa. E quindi la fa entrare in casa. Ovviamente c'è suo padre a casa. Quindi tutto a posto. Non è che l'ha fatta entrare senza un genitore in casa. C'era Isaac. E Isaac tonto com'è. Non si fa problemi. Dice. Ah molto piacere signora Pearl. Molto piacere. Io sono Isaac il marito di Sabrina. C'è la coia a braccia aperte. Nonostante lui sa il passato di Sabrina. Lui la coia a braccia aperte. L'unico che è un po' diffidente. Forse perché appunto ripeto. Assomiglia sempre di più a Sabrina. E Noah. Perché non se la calcola tanto alla nonna. Melissa appunto gli spiega a Noah chi è. Gli dice guarda che nostra nonna. Pearl cerca pure di parlarci con Noah. Ma Noah non se la fila più di tanto. No. Non se la calcola. Invece Isaac è tutto sorrisini. Complimenti. Le offre il caffè. Cioè tutte queste cose qua. Arriva Sabrina dal lavoro. E per poco non ci viene un infarto. Perché anche se è mascherata così. La riconosce subito. Cioè la faccia è quella. Cioè non puoi nasconderti da tua figlia. Anche se ti ha visto poche volte. La riconosce subito. Infatti manda tutti via. Il saluto si svuota. Adesso sono loro due. E gli dice. Che cosa ci fai qui mamma. E poi ha iniziato a giustificarsi. E volevo vedervi. Sai con me mi mancate un sacco. Visto che hai creato una bellissima famiglia. Ho conosciuto tuo marito. I tuoi bambini. Melissa e Noah sono stupendi. Sono fantastici. Complimenti. E poi. Vi ho fatto lo screenshot. Perché ovviamente le ho fatte discutere. E una cosa bellissima. In un fumetto mi è uscita Sabrina. La prigione. La cella della prigione. Io no vabbè adoro. Adoro la follia. Che praticamente Sabrina. Nel discorso le dice. Ma tu non dovevi essere in prigione. E per ovviamente lì cerca di fans. Ma no lo so. Ho sbagliato. In passato. Non ha fatto una cavolata. Ma perché lui. Tu non te lo ricordi di piccola. Lui ti trattava male. Quindi si mette a raccontarne. Un sacco di balle. Su questa cosa. Fatto sta che Sabrina è buona. E vi dico già che. Che non la denuncerà a Perle. Quindi non andrà dalla polizia. A dire mia madre è tornata. Arrestatela. Però lei dice che deve stare lontana dalla sua famiglia. Che lei non la vuole nella sua vita. Perché comunque non crede una sola parola. È vero. Lei era piccola. Non si ricorda niente. Ha passato praticamente tutta la sua infanzia. Con la babysitter. I suoi genitori non l'hanno mai calcolata di striscio. Manco per sbaglio. Quindi lei non si ricorda appunto niente. Però proprio a maggior ragione. Se mio padre mi trattava male. Io me lo dovrei ricordare. Che mi trattava male. Invece io non mi ricordo niente. Di nessuno dei due. Ma perché non c'eravate. Per quello. Fatto sta che comunque nelle discussioni. Vince sempre Pearl. Cioè quindi praticamente Sabrina ogni cosa che dice contro Pearl. Lei dice tu sei stata una madre terribile. Io non ti voglio qui con i miei figli. Tutte queste cose qua. Lei fa sì sì lo so Sabrina sei sempre la solita. Ma io faccio come cavolo voglio. Cioè ti è chiaro. Quindi niente. Praticamente hanno questa discussione. Sabrina cerca di cacciarla in vano da casa sua. Ma non ci riesce. Pearl ha messo le radici lì. E non ha nessuna intenzione di andarsene. Ha intenzione di conoscere i suoi nipoti. Che a sua figlia le piaccia oppure no. Cioè ma mi rendete conto? Servivano a Pearl. Nella vita di Sabrina per sconfoggiarle tutto quanto. Cioè praticamente lei era la madre. Era quella che gestiva tutto quanto. E arriva Pearl e in un attimo da madre è tornata figlia Sabrina. È tornata figlia e non può più gestire appunto la sua vita come cavolo vuole. Perché c'è Pearl. In tutto questo però ovviamente c'era Annabelle in salotto. Che ascoltava tutto quanto. Tutta zozza. Perché non lo so dove è stata. Era lì sulla poltrona. Però praticamente era come se fosse invisibile. Era lì sulla poltrona ad ascoltarsi tutta. Cioè a guardarsi divertita. No ma mi ha fatto morire questa scena. A guardarsi divertita questa scena. Cioè quindi sua nonna e sua mamma che litigavano. E la nonna che metteva i piedi in testa a sua madre. Oh mio Dio non ho mai visto niente del genere. Mio padre non le fa queste cose. Mio padre non sa mettere i piedi in testa a mia madre. No ma è stato bellissimo. E appunto nelle discussioni vince Pearl. Cioè come è lì con le braccia incrociate. Come per dire tu ti vuoi mettere veramente contro di me. Cioè cresci ancora bimba mia. Devi ancora arrivare ai miei livelli. Quindi morale della favola. Che succede? Pearl continua a fare il cavolo che vuole. Quindi Sabrina sceglie di non denunciarla. Pearl vuole conoscere i suoi nipoti. Non ha cattive intenzioni. Lei vuole conoscere veramente i suoi nipoti. Vuole sapere. Poi soprattutto Melissa. Le ricorda tantissimo lei. E quindi si è affezionata già tantissimo a Melissa. E soprattutto cioè. Non lo so. Se Pearl avesse un po' di coscienza. Innanzitutto chiederebbe scusa a Sabrina. Per non esserci mai stata. E non lo fa. Secondo. Non hai la faccia tosta di presentarti e conoscere i tuoi nipoti. Dopo che non parli con tua figlia da un botto di anni. Non ti sei mai fatta sentire. Non hai mai mandato una cartonina. Mai una lettera per sapere come stava. Così di punta in bianco sei tornata. Decidi di fare questa cosa e la fai. Ma vabbè. Questo è il personaggio di Pearl. Però mi piace perché è venuta a sconvolgere completamente la vita monotona di Sabrina. Poverina. Mi piace e mi dispiace. Ma continuiamo a parlare di Pearl. Perché infatti lei. Se vi ricordate. Era scappata con il suo avvocato. Pure lui è latitante. Perché ovviamente è complice di questa cosa. Perché sì è vero. Lui non ha ucciso nessuno. Però è complice di questo fatto. Perché comunque è scappato con lei. L'ha aiutata ad ottenere appunto tutti quanti i soldi. Quindi ha fatto una truffa praticamente con Pearl. E vive praticamente con lui. Quindi vivono insieme. E sono sposati. E ancora vivo. Precisiamo che è ancora vivo. Perché comunque tutti i soldi che ha eredito tolì. C'è la Pearl. Quindi lui non ha niente. Quindi dice. Senti non mi voglio macchiare le mani per un altro crimine. In cui non ci guadagno niente. Quindi anche se è insopportabile. Me lo tengo vivo. Tanto prima o poi la morte arriverà. E se lo porterà via. Lui è al corrente che Pearl è stata appunto a casa di Sabrina. Che va spesso a casa di Sabrina. E soprattutto Pearl gli racconta appunto. Cioè Pearl di solito non lo rende partecipe dei suoi piani. È solo tipo lo scagnozzo che le serve magari per fare il lavoro sporco. Per metterci la faccia a queste cose qua. Ma quando deve fare qualcosa dei suoi piani lui non ne partecipe. E praticamente appunto lei gli dice soltanto che boccia l'ha fatta. È riuscita ad entrare a casa di sua figlia. È tutto a posto. Ha i nipoti in mano così gli dice. Lui siccome è un po' scemo. È un po' scemo un po' tonto. Pensa che il piano di Pearl sia un altro. E quindi decide di stupirla. In qualche modo. Quindi si presenta a casa di Sabrina. Senza farsi vedere da nessuno ovviamente. Trova Anna bel fuori. L'avvicina. E con una scusa no. Cioè inizia a parlarci così con una scusa. Lei dice dai che ti porto in un bel posto. Prende mi rapisce Anna bel. Cioè ma siamo scherzati. Ma rapito la bambina. E la porta a casa loro. A casa di Pearl. Pensando di fare un favore a Pearl. Dire guarda appunto. Ho rapito tua nipote. Adesso tua figlia ci dovrà dare dei soldi. Perché lui pensava veramente che questo fosse il piano di Pearl. Cioè quindi per esempio avvicinasse i nipoti. Per poi fregare dei soldi alla figlia. Visto che è una bella casa. Un lavoro redditizio. Così. Quindi ha rapito una bambina. Piccola. Mochi sono tornati. Per avere una sorta di riscatto. Pearl si arrabbia tantissimo. Perché primo non era questo il suo piano. Secondo appunto. È appena tornata. E lei non ha intenzione di fare di nuovo la vita. Dalla titante che ha fatto fino a Mo. Quindi cambiare di nuovo posto. Scappare dalla polizia. Nascondersi eccetera eccetera. Vuole godersi gli ultimi anni della sua vita. Tranquilla. Con i suoi nipoti. E lui sta rovinando tutto. Quindi si arrabbia tantissimo. E dice adesso io come le ho spiega a mia figlia. Che non è stata la mia idea. Quella non mi crederà mai. Eccetera eccetera. Infatti. Si arrabbia tantissimo. Lui ha fatto una cavolata. E lui dice. Eh ma tu non mi rendi partecipi dei tuoi piani. Io che ne so. Pensavo di farti piacere. Tu sei complicata. Non capisco mai che cosa vuoi. Eccetera eccetera. Così discutono praticamente tutto il tempo. Poi. Perle si ricorda che c'è una bambina lì. Che scorrazza. In giro. Quindi l'abbraccia. E dice Annabelle non ti preoccupare. Tutto apposta. Adesso la nonna ti riporta a casa. Manca il tempo di dirlo. Che mi appare all'improvviso Sabrina. Cioè io stavo viaggiando. Per andare con Perle. Non con Perle. Vabbè io stavo viaggiando con Perle e Annabelle. Per riportarla a casa. Manca il tempo di aprire il cellulare. Per fare viaggio. Trovo Sabrina alle spalle. Che si prende Annabelle. Guardate che cavolo ci fa questa qui. Non pensavo che si accorgesse. Che le mancasse una figlia. Invece a quanto pare se ne accorta. E senza dire una parola a sua madre. Prende e se la porta via. Scappa. Ovviamente questo è simbolo. Che è. Cioè è segno. Che è arrabbiata nera. Con sua madre. Quando è sparita Annabelle. Sapeva benissimo. Dove andarla a cercare. Cioè. Praticamente Perle si è giocata. Se aveva una minima possibilità. Di riuscire. Ad avvicinarsi appunto. Di nuovo a Sabrina. E ai suoi nipoti. Se l'è giocata completamente. Ma non per colpa sua. Per colpa di quel deficiente. Che sta con lei. Che doveva uccidere in questo caso. E quindi niente. Adesso è un po' in salita. La situazione. Perché Sabrina ovviamente. Non la vuole più. Nella sua vita. Cioè mi ha riappito una bambina. Mi ha riappito mia figlia. Ma tu sei fuori. Completamente fuori. Ovviamente. Ci sono degli aggiornamenti. Anche nella casa. Perché abbiamo tolto la nursery. Visto che ormai. Sono tutti quanti grandi. E finalmente ho fatto lo studio di Sabrina. Anche se lo usa pure Isaac. Però. E principalmente lo studio di Sabrina. Infatti ci sono tutte quante le lauree attaccate. C'è la foto della laurea di Sabrina. Di qua ci sono appunto le foto. Di Sabrina da bambina. Barra adolescente. E con sua nonna. E poi dietro. Ho fatto appunto questa zona libreria. Con le poltroncine. L'orologio. I suoi progetti scolastici. Non tutti. Ho tenuto solo quelli più. Che le piacevano di più. E quindi appunto. Adesso lei vicino alla camera da letto. Ha il suo ufficio. Che non darà mai a nessuno. Quindi questo non si convertirà in nient'altro. Rimane un ufficio. Per lavorare. In giardino abbiamo ovviamente due alberi enormi. Che sono perfetti per fare la casa sull'albero. E quindi i bambini vogliono la casa sull'albero. E Isaac si mette al lavoro. Per costruire la casa sull'albero. Da quando appunto Sabrina ha portato a casa Annabelle. La controlla sempre. Continuamente. Sta sempre con lei. Quindi Annabelle sta sempre con Dolly. La cagnolina. E Sabrina. Cerca di stare più tempo appunto con Annabelle. Per controllare come sta. Tutto a posto. Cioè comunque cerca di non lasciarla più da sola. Infatti quando vede che in giardino vanno tipo. Gli altri due figli. A fare i progetti scolastici. C'è solo con Annabelle. Allora lei entra dentro a fare le sue cose. Quindi la tiene super controllata da Annabelle. Perché non si sa mai che sparisce di nuovo. Rapita da sua madre. E parliamo un attimo di Melissa. Melissa è bravissima nella recitazione. E infatti mi è già arrivata a livello 4 del club drammatico. Attenta a te del Sol Valley. Perché Melissa sta arrivando. Saper recitare bene è un grande dono. Usalo saggiamente. Guadagna altra fama. E diventa una stella. Ma allora Dolly è stata sterilizzata. Infatti al cono. E Annabelle la guarda e dice. Ma che ti è successo? Ma che cosa ti hanno fatto? Comunque la supervisione di Sabrina. Nei confronti di Annabelle. È durata veramente poco. Perché infatti la lascia di nuovo a se stessa. Cioè dopo che vede appunto sua madre. Non ha intenzione. Cioè non si è più fatta viva in realtà a Pearl. Dopo questo fatto. E quindi boh. La lascia di nuovo a se stessa. Ad arrangiarsi. Infatti quando la mettono a letto. Perché lei spesso dorme dove le capita. Ma quando la mettono a letto. Poi lei la mattina ha fame. Di solito sono già tutti quanti al lavoro o a scuola. Quando si alza appunto Annabelle. E allora lei scende le scale da sola. E va a fare colazione. È molto indipendente come bambino. Oppure va in salotto a leggere. Perché le piace un sacco leggere. E così. Ma stanno accadendo degli altri fatti strani. Infatti Pearl non ci sta a casa. Ma stanno accadendo altre cose. Cioè praticamente avete presente. Quando vi capita una disgrazia. E poi subito dopo ve ne capita un'altra. Ecco. Capitano tutte quante insieme. Ovviamente. E infatti inizia a prendermi fuoco il WC. Cioè. Il WC. E io ho pensato. A Noah piace fare gli scherzi. Magari mi ha messo qualcosa di puzzolente. Ed è andato a fuoco il PC. Sì il PC. Il WC. Non lo so. Non ne ho idea. Se è quello. Perché non me ne sono accorta. Ha fatto Stacca. Ha preso fuoco il gabinetto. E c'era Melissa che lo stavo usando. E allora Sabinina corre per. Appunto spegnere l'incendio. Di salvare la sua amata bambina. Non chiedetemi perché ha questi capelli. Quando va al lavoro. Perché questa è la divisa dal lavoro. Non so perché ha questi capelli. Che aveva prima. Non ne ho la più palida idea. Però vabbè. Non importa. Non importa. Ce la teniamo così. Tanto è solo il look del lavoro. E poi appunto. Abbiamo salvato Melissa. Da questo incendio. E questo è soltanto il primo incendio. Quindi cose strane che capitano a casa. La babysitter vive con noi. Ed è bellissima questa foto. Perché c'è Annabel. Che gioca fuori. Ed è controllata sia dal cane. Che dalla babysitter. Ci sono tutte e due con lei. Noah invece è pieno di amici. Infatti questo è il suo miglior amico. Che si chiama Atlas. E lo va sempre a trovare. Va sempre a casa sua. Giocano insieme. Stanno insieme tutto il tempo. La babysitter sta con tutti. Sta sia con Noah. Sia con Melissa. Sia con Annabel. Sta veramente con tutti. Parla tantissimo con loro. E soprattutto gli aiuta. Con l'educazione. La comunicazione. Cioè tutte queste cose qua. Infatti Noah. Aiuta tantissimo in casa. È proprio un ometto. Fa tutte le cose. Infatti tipo adesso è ancora autunno. Quindi rastrella le foglie. Perché lui comunque fa gli scout. Quindi ogni buona azione che fa. Gli conferisce un distintivo. E quindi appunto. Anche per quello. Poi vabbè tutti i denti sorti. Gli ho messo l'apparecchio. In modo che così ha i denti dritti. Quando sarà adolescente. E poi appunto. Hanno la nave dei pirati. Il giardino. Oltre alla casa sull'albero. È giocata tantissimo. La babysitter è giocata tantissimo con lui. E poi con il suo miglior amico Atlas. Noah. Fa degli scherzi. Infatti ogni volta che si vedono. Fanno degli scherzi. In questo caso appunto. Hanno divulgato in segreto. Tutte le risposte dell'esame a scelta multiple. Chiedendo solo pochissimo. Per ogni bigliettino di appunti. Naturalmente le risposte erano totalmente inventate. E hanno aiutato Noah. A classificarsi meglio. Cioè quindi per esempio. Lui ha fatto il compito giusto. Lui e Atlas. Hanno fatto il compito giusto. Mentre gli altri hanno sbagliato. E in più. Ci ha guadagnato 300 simoleon. Cioè. Un genio del male. Assolutamente. Ma parliamo un attimo di Isaac. Perché infatti in questo aggiornamento. Andremo. Come avete visto. Andremo a parlare un po' di tutti i membri dell'unità familiare. Un po' spezzettori. Di quello che fanno. Isaac infatti. Finalmente. Finisce la rivalità. Lavorativa. Con gran sollievo dei colleghi. Soprattutto. Isaac e Marcus. Non sono più rivali. E la strada verso la promozione. È spianata. Ottima notizia. Perché tirando le somme. Isaac merita senza dubbio. Un aumento. Infatti. Finalmente. Cioè. Isaac era a livello 9. Per un sacco di tempo. È rimasto a livello 9. Perché appunto. Con il fatto che c'era il rivale. Non riusciva a prendere questa benedetta promozione. In nessun modo. Anche se lo sabotavamo. E tutto quanto. E quindi è andato al lavoro. E finalmente mi ha preso. Questa benedetta promozione. Ed è arrivato a livello 10. Quindi promossa prodigio del PC. Grazie alla propria conoscenza approfondita di hardware e software. Isaac possiede l'esperienza per innovare davvero. E rivoluzionare il proprio campo. Con sufficienti capacità di elaborazione e creatività. Isaac potrebbe simulare interi mondi popolati da personaggi digitali. Che non si renderebbero neanche conto di essere irreali. Quindi finalmente Isaac è arrivato a livello 10 della carriera. Mentre Sabrina lo è già da un po'. Già da un po' lo è a livello 10. Ma parliamo di Noah barra Sabrina al maschile. Perché infatti lui col fatto che gli fa gli scout. Si rende utile a casa. Agli scout è sempre eccellente eccetera eccetera. Oltre a fare gli scherzi a scuola per guadagnarci lui. Mi ha completato tutti quanti i distintivi. Della carriera degli scout. Quindi lui è al massimo. Della attività estrascolastica. Degli scout. Ma anche completa tutti quanti i distintivi. Quindi perfetto. Proprio come vuole Sabrina. Intanto la casa sull'albero è ultimata. E abbiamo messo ovviamente le decorazioni piratesche. Visto che di là c'è la nave dei pirati. Gioca tantissime a biglie. Infatti il suo obiettivo è quello di farmi la collezione delle biglie. Perché per caso Sabrina ha trovato una biglia. Nella scatola dei giochi del cane. E allora da lì gliel'ha data a Noah. E Noah ha iniziato a collezionarle. E gioca tantissimo appunto con i suoi amici. Ed è bravissimo. Magnifico. Noah è imbattibile a biglie. Perché Noah è bravissimo in tutto quello che fa. E poi si scambia le biglie con il suo migliore amico. E noi gli abbiamo dato una biglia comune. E lui ci ha dato una biglia rara. Cioè vale 2500 simoleon. Noi gli abbiamo dato una biglia che costava 100 simoleon. Cioè quando l'amicizia è vera. Questo è il barattolo delle biglie. Ed è così pieno perché infatti abbiamo completato la collezione. Infatti eccola qua. Tutte le biglie. Che bello. Non mi ricordo che cosa ci hanno dato come premio. Non lo so. Vabbè comunque ovviamente continuano gli scherzi. Con una dimostrazione straordinaria di determinazione. Noah ha impilato meticolosamente centinaia di tazze piene d'acqua davanti alla classe. Aggiungendone anche qualcuna per buona misura. Gli insegnanti sono stati costretti a smantellare lentamente la piramide d'acqua. Offrendo occasioni di hilarità e svago agli studenti. Il responsabile non è mai stato identificato. Noah ha guadagnato un bonus del rendimento scolastico e aumento della creatività. Cioè rendetevi conto come lui va bene a scuola. Con gli scherzi. Ma parliamo un attimo di... Cioè ho questa foto che vi devo far vedere. Infatti adesso andiamo a parlare un attimo di Melissa pure. Atlas è il migliore amico di Noah. Quindi sta sempre a casa nostra. E Melissa è cotta di lui. Cioè si vede che è cotta di lui. È completamente cotta di lui. E a Noah non è che fa tanto piacere questa cosa. Dice senti sorellina io voglio andare a giocare con il mio migliore amico. Tu che cavolo vuoi che ti metti sempre in mezzo? Ebbene sì, ebbene sì. Iniziano i primi amori. Melissa come attività extrascolastica. Perché appunto come vi ho detto tutti quanti in questa famiglia devono avere un'altra attività da fare. Oltre alla scuola e oltre al lavoro. Perché se no non è concepibile come cosa. Tu non puoi stare a casa a fare niente. A leggere come fa qualcun altro. Senza fare i nomi Annabelle. E quindi Melissa appunto va al club drammatico. È a livello 4. È bravissima in quello che fa. E appunto ve l'ho già letto prima la descrizione. Questa appunto però è la foto intera. Sabrina mi ha completato l'aspirazione. Che era appunto di sim rinascimentale. Che era appunto tra i suoi obiettivi della challenge. E adesso può scrivere dei libri. Dei libri motivazionali? Non mi ricordo più che. No, dei libri sulle abilità. Infatti in questo caso stava scrivendo un libro sull'abilità del carisma. Come diventare un leader in 12 facili punti. E può scrivere un libro per ogni abilità. Quindi un libro sulla forma fisica. E praticamente chi lo legge massimizza. Cioè massimizza. Comunque alza quell'abilità. E quindi lei inizia col fatto che è già professoressa. Cioè praticamente questa. E poi con il fatto proprio che professoressa. Posso anche insegnare agli altri. Tipo mi esce insegna il carisma. Insegna ricerca e dibattito. Insegna a cucinare. Cioè può insegnare praticamente a tutti. Cioè praticamente la maestrina del mondo. E l'aspirazione è perfetta per lei. Chiunque abbia detto esperto di tutto, maestro di niente. Non ha mai conosciuto Sabrina. Che ha appena realizzato il proprio sogno di diventare un vero sim rinascimentale. Tratto guadagnato professorale. Sabrina può scrivere i libri che fruttano abilità. E' quello che appunto vi ho fatto vedere prima. Ebbene sì, mamma mia. Cioè abbiamo un genio in famiglia. Quindi lei dà lezioni a tutti quanti. Abbiamo anche il gioco della campana in giardino. Noah fa tantissima attività fisica. Vremente tantissima. Però lo usano un po' tutti quanti questo gioco della campana. E la cosa bella è che quando appunto qualcuno torna. Comunque qualche membro della famiglia torna a casa. C'è sempre Dolly che li aspetta sul portico di casa. Per salutarli. E' troppo tenera. E dice ciao, so che a quest'ora torna Melissa. Quindi vado a salutare Melissa. Che gioco un po' con lei. Poi a quest'ora torna Isaac. Aspetto Isaac sul portico. E gioco un po' con lui. Così. In modo che così con una scusa si becca tutte le coccole per dare il benvenuto. Ovviamente Melissa sta crescendo. E con il fatto che ha già la sua prima cotta per il miglior amico di suo fratello. E sua madre ha questa toeletta bellissima. Lei vuole assolutamente truccarsi. Che a parte Sabrina non è una che si trucca tanto. Cioè proprio è molto naturale come trucco il suo. Però appunto Melissa vuole essere grande. Vuole farsi bella. Peccato che non ha ancora le doti pratiche per truccarsi come si deve. Infatti è un pagliaccio. Melissa è piuttosto sicura che l'effetto del trucco è ben diverso sui adulti. Sì infatti hai esagerato un po'. Poi la matita verde. Cioè ma... Ma no! Ma no! Ma torniamo ai fatti strani. Vi ricordate del WC che prende fuoco? Ecco. Forse ho capito qual è la causa di questi incendi. Perché infatti un giorno così dal nulla... Cioè ditemi che cosa c'è che può prendere fuoco qui. Perché io non lo so. Non è una più palida idea. Prende fuoco il letto di Annabelle. E io lì... Oh mio Dio! Si sta avverando quello che io ho in mente! No! Ho paura adesso! Praticamente continuano ad accadere degli incendi così a Muzzo. O nel WC, nel bagno di sotto, sempre. Infatti dopo c'è un'altra foto proprio di questo fatto. Che di nuovo il WC del piano inferiore ha preso di nuovo fuoco. Ma ha preso fuoco anche il letto di Annabelle. Cioè io sono scioccata! Letteralmente scioccata da questa cosa. Quindi questi sono avvenimenti strani e macabri che stanno accadendo in casa di Sabrina. Che Sabrina non riesce a spiegarsi. Tutto dopo che è arrivata Pearl. Quindi continuo a pensare che sia lei la causa. Ma vi mostro una bambina arrabbiata. Ogni volta che questa arrabbiata scoppia un incendio. O sono collegati o è una coincidenza assurda. Letteralmente. Ma vabbè. Andiamo avanti. Ovviamente la babysitter continua ad occuparsi di Annabelle. Annabelle è sempre arrabbiata perché non vuole che la gente la prenda in braccio. Non la sopporta questa cosa. Ah però poi appunto la porta a mangiare. La fa mangiare. Il problema è che la babysitter si occupa appunto di tutti quanti i bambini. E quindi spesso si la porta in seggiolone per farla mangiare. Ma poi l'abbandona lì. E lei non riesce a scendere perché chiama. Non c'è nessuno che la fa scendere. E si addormenta lì poverina. Mentre la babysitter magari sta fuori in giardino a giocare con i bambini. Infatti c'è Noah qui sulla nave dei pirati. E c'è Melissa lì sulla struttura d'arrampicata. Povera Annabelle. Dimenticata da tutti. Ma torniamo a parlare appunto di Noah. Perché infatti Noah abbiamo visto i suoi obiettivi, i suoi traguardi. Ma in più lui ha acquisito molta fiducia in sé. I sim con molta fiducia in sé hanno imparato a credere in se stessi. Diventano fiduciosi più facilmente anche quando imparano dagli errori. Ma possono comunque rimanere feriti dalle critiche. Una grande fiducia in sé si traduce in una grande autostima nel passaggio all'adolescenza. Mentre Melissa ha poca fiducia in sé. Infatti la babysitter la aiuterà tantissimo su questo fatto. Per acquisire più fiducia in sé. Che poi io non me l'aspettavo da Melissa. Però Melissa è sempre stata così. È sempre stata un po' lagnosa. Ha bisogno di attenzioni. Che ha bisogno di tutti quanti che dicono costantemente che sia brava eccetera eccetera. Proprio perché appunto a quanto pare ha poca fiducia in sé stessa. Però la babysitter ci aiuterà in questo fatto di farla credere di più in sé stessa. E sarà un casino. Poi questo invece appunto è Sabrina. La sua carriera. Lei appunto come vi ho detto prima è già a livello 10 da un po'. Infatti ha già ottenuto tre promozioni. Cioè non tre promozioni. Tre aumenti di stipendio. Perché è veramente bravissima in quello che fa. E questa è la nostra carissima. Come si dice? Donna del pulizie. Felicissima di venire a lavorare in questa casa. Sprizza felicità da tutti i pori. Ma dai che cattiveria. Vabbè. Ah sì perché questa è una mattina pometante. Una mattina in cui appunto. Tutti quanti vanno a lavoro a scuola. La babysitter resta a casa appunto con Annabelle. Isaac va al lavoro. Dolly si prepara per il suo riposino. Visto che non c'è nessun bambino a romperle le scatole. Per dormire appunto sul divano. E Annabelle secondo voi soffre di solitudine da sola a casa. No! Si diverte tantissimo. Infatti si mette a ballare in salotto. Fa tutto quello che le pare piace. Gioca con Dolly. Cioè si diverte tantissimo appunto. Quando lei sta a casa da sola. Tutta la famiglia sta al lavoro o a scuola. Bellissimo. Questo è Noah. Che ovviamente ha un sacco di amici. Quindi lui è molto estroverso come bambino. Melissa invece non ha amici da bambina. A parte gli amici di suo fratello. Però comunque non è molto espansiva. Lei preferisce stare sulle sue per i fatti suoi. E occuparsi appunto semplicemente della sua carriera. Disegna tantissimo. Perché infatti poi le appendiamo in casa i disegni. E c'è la babysitter che le fa sempre i complimenti. E questa cosa le aiuta poi ad aumentare la sua fiducia. Questo è il centro comunitario. L'ho scaricato dalla galleria. È bellissimo. È veramente bellissimo. Perché ha fatto tutta questa struttura. Cioè quindi questo parco giochi per i bambini. E poi c'è anche l'area con le fontane. E l'area della palestra all'aperto. E qui praticamente dove si svolge il club degli scacchi di Sabrina. Questo appunto è lo screenshot della galleria. Quindi se volete scaricarlo e vedere com'è. Questi sono appunto i disegni. Le cose che fanno Melissa e Noah al tavolo. E poi c'è questa foto. Che praticamente è l'unica persona che le vuole veramente bene ad Annabelle in questa casa. È suo padre. Infatti Isaac vuole solo il meglio per Annabelle. E pensa che sia davvero meravigliosa. Tenero lui. Ma andiamo a parlare un attimo di Melissa. Perché infatti questo è un video tutto aggiornamenti di tutto quello che fa l'intera famiglia. E siccome sono tanti c'è un po' di roba da dire. Però poi alla fine del video vi svelerò qualcosa sulla nuova generazione. A parte che già abbiamo visto il fuoco. Annabelle arrabbiata il fuoco. Incendi anomali. Paranormali. Nella casa. Quindi già c'è qualcosa. Già c'è qualcosa sulla nuova generazione. Questa appunto è Melissa di come si comporta le recite. La preside ha vietato la messa in scena della recita sperimentale delfini di luce. Prevista per questa settimana. Preferirebbe piuttosto che Melissa mettesse in scena il musical le canzoni del mio gatto felice. Il cast non vedeva l'ora di mettere in scena delfini di luce. E vorrebbe disobbedire. Melissa deve mettere in scena uno spettacolo musicale o quello sperimentale. Allora di solito Melissa fa sempre quello che dicono gli insegnanti. Però in questo caso siccome tutta la classe voleva appunto fare i delfini di luce. Cioè puoi mai dire di no ai tuoi fan? Deludere cioè avere tutta questa gente che magari poi ti elogia perché gli hai fatto avere appunto lo spettacolo che volevano? Assolutamente no. Non ci rinuncerebbe mai Melissa. E quindi mettiamo in scena uno spettacolo sperimentale. Ma va male. Come un delfino che nuota felice e veloce nell'acqua anche il pubblico assiste felice alla messa in scena di delfini di luce. Essere fatta la preside non riesce a credere ai suoi occhi ma non se la sente ed interrompe lo spettacolo di lanza tutti i genitori. L'atto di insubordinazione costa un voto a Melissa. Ma il corpo studentesco è rimasto impressionato dall'audace della compagna. Grazie al suo coraggio Melissa guadagna fama. Quindi è andata male ma è andata anche bene perché appunto abbiamo ottenuto la fama dai nostri compagni di classe ma è andata male con la professoressa. Quindi la prof adesso si fida poco di noi ovviamente. E quindi è un male. Ma torniamo appunto a Sabrina che continua ovviamente con le sue attività. Quindi lei non ha rinunciato al suo club degli scacchi che lo fa appunto in questo parco. In questo parco sempre correggge i compiti della sua classe. Continua a fare lo yoga con le sue amiche, con il club dello yoga. Mentre a casa appunto i bambini stanno sempre insieme. Noa e Melissa giocano tantissimo insieme, stanno molto insieme. Annabelle è sempre da sola infatti. Cioè non se la calcolano molto la sorella. Poi a Melissa piace un sacco ovviamente con il fatto che è molto vanitosa. Le piace un sacco i vestiti belli, i vestiti costosi, i nuovi vestiti. E soprattutto recita tantissimo davanti allo specchio. E poi questo specchio con le luci così le sa tanto da diva. Quindi le fa molto la diva. E soprattutto una cosa che l'ha aiutata la recitazione ad ampliare e a fare meglio è stato proprio... Lei da piccola, se vi ricordate appunto, piangeva, urlava sempre. Ecco, da bambina ha smesso di urlare come una dannata. Però piange a comando. Sa piangere a comando. E soprattutto, che ne so, se vuole qualcosa, sa recitare talmente bene lei. Che è brava. Che riesce ad ottenere tutto quanto. Perché riesce ad ingannare chiunque, persone sui genitori. E questa cosa appunto le ha portato molta fiducia in sé. Anche grazie alla babysitter che appunto l'aiuta tantissimo. L'ha aiutata appunto a far crescere la sua fiducia. E mo' è finita. Cioè, praticamente non la fermiamo più. Perché mo' che sa di poter fare determinate cose. Visto che riesce ad ingannare persino i suoi genitori che la conoscono. E' finita. E' letteralmente finita. Abbiamo parla due la vendetta. Ovviamente i bambini, oltre a fare le loro attività extracurriculari. Fanno anche volontariato con tutta la famiglia. Perché, se vi ricordate, Sabrina fa anche volontariato. E Noa e Melissa seguono tutto quello che fa Sabrina. Noa sta trasportando un'enorme bracciata dei rifiuti. Quando inciampa e cade rovinosamente. Un simo adorabile assiste alla scena. E Noa si sente davvero in imbarazzo. Cosa deve fare? Lui ignora l'imbarazzo e raccoglie i rifiuti. E mi esce. Noa raccoglie di nuovo i rifiuti. Procede poco oltre. E inciampa goffamente di nuovo. Ci rinuncia in preda alla frustrazione. Lasciando i rifiuti sparsi su tutta la spiaggia. Gli altri volontari si vedono costretti a rimediare allo scompiglio. Povero. Poi invece mi è uscito. Un simo anziano con un masso di carte spiegazzate. Si avvicina a Noa. E gli chiede se ha voglia di giocare una partita. Lui gioca la partita. Perché è un bravo bambino. Noa si è un po' stufato di giocare a carte. Ma il simo anziano è entusiasta di aver raccontato le sue storie a Noa. E' stato come se Noa avesse davvero ravvivato la giornata dell'anziano. Quindi comunque queste buone azioni. A parte che le aiutano con l'educazione. Con essere compassionevole eccetera eccetera. Con le buone maniere. Tutti questi tratti qua. Però appunto cioè li rendono anche importanti no? Come persone, come famiglia. Questa è una foto non so perché. Praticamente c'era Annabelle che era tornato Isaac dal lavoro. L'aveva trovata fuori, l'aveva sgridata. Annabelle si è arrabbiata tantissimo. E Isaac a sua volta si è arrabbiata tantissimo. Perché Annabelle vuole fare il cavolo che vuole. Senza che gli adulti le dicono che cosa deve fare. Non la sopporta questa cosa. Infatti praticamente come segno di protesta. Visto che appunto poi Isaac è andato dentro. L'ha mollata lì. Ha detto ok va bene fai come cavolo vuoi. Non mi interessa. Sei messo a sporcare tutto quanto vi ha letto di casa. Questo invece è il volontariato di Melissa. Lo chef della mensa dei poveri. Chiede a Melissa di assaggiare la zuppa. Per vedere com'è. È incredibilmente salata. È semplicemente immangiabile. Melissa deve dire la verità rischiando di offendere lo chef. O mentire rischiando di offendere gli avventori. Ovviamente Melissa dice la verità. Però lei non ha tatto nel dire la verità. Gli dice proprio fa schifo. Melissa espone la propria critica senza molto tatto. E lo chef accusa il colpo. Melissa viene espulsa dalla cucina. E finisce per occuparsi delle forniture di tovaglioli per il resto dell'evento. No vabbè. Poi questo è un altro. Melissa si è allontanata dal percorso. E ha finito per perdersi. Si ritrova senza punti di riferimento. E non ci sono sim in giro. Cosa deve fare? Ovviamente lei inizia ad allarmarsi. Oh mio Dio sono tutta sola. Melissa piange. Ed è completamente in preda al panico. Inizia a urlare con tutto il fiato che ha in corpo. Finché un gruppo di sim non si fa largo tra la vegetazione. A quanto pare Melissa si trova a circa una decina di metri dal percorso. E si sente un po' stupida per essersi allarmata in quel modo. Se invece mi fosse capitata Noa. Mi avrebbe fatto l'altro. Cioè cerca la via del ritorno. Perché poi lui è anche uno scout. Quindi è abituato a queste cose. Noa ad arrangiarsi. Ma torniamo ovviamente a Melissa e Perle. Perché secondo voi Perle si sarebbe resa così. Assolutamente no. Infatti Perle torna alla carica. Va a prendere Melissa. Comunque si vedono sempre al centro comunitario. E siccome lo stesso centro comunitario che frequenta Sabrina per il club degli scacchi. Per quello appunto vi ho parlato di Sabrina prima. Per collegarmi a questo punto. Li vede. Cioè le vede. Le vede a tutte e due lì che parlano. E allora si mette in mezzo. E inizia a dire Perle. Prima con le buone. Che deve stare lontana da sua figlia. Poi con le cattive. Visto che lei non l'ascolta. Di stare lontana da sua figlia. E di lasciarle in pace. Ma secondo voi Perle lo farà? Ma assolutamente no. Perché infatti. Capita una cosa. Perle ha la faccia tosta. Di chiede alla Sabrina. Visto che siamo parenti. Sarebbe davvero bello se potessi trasferirmi da te. Che ne pensi? Ma tu sei tutta pazza. A parte vi devo far vedere questo outfit di Perle. Cioè guardate. Il pantalone. Tutto aperto di lato. Cioè Perle è anziana. Se non si fosse capito. Però appunto il pantalone di pelle. Anzi finta pelle. Bianco. Quindi si mostra tutto quanto. Cioè super aderente. Così. Aperto di lato. Cioè. Perle. Manco da anziana ti smentisci. No io l'adoro con questo look. Ve lo giuro. Poi guardate. Qui appunto con lane d'oro. Orecchini grossi. Tanti anelli. Quella pancia di fuori. Un reggisero come maglia. Cioè. No comment. Io l'adoro. Però è bellissimo. Tutto questo. Perché? Perché. Praticamente continua ad abbronzarsi. Quindi non ha più. Il colore della sua pelle. Sempre abbronzata. E. Per mimetizzarsi. Quindi così. Per sfoggiare anche questi stili. No. E passare per un'altra cultura. Così. Ma è tutto un fattore per mimetizzarsi. E praticamente. Quando si presenta a casa vestita così. A parte Sabina. La guarda. Dice. Come cavolo ti sei conciata. Ma ti rendi conto. Alla tua età. Che cosa combini. E poi dopo che lei ha detto. Appunto. Che vuoi venire a vivere da lei. Ma non scherzare proprio. Ma chi ti vuole. Isaac. Invece. Continua ad essere gentile. Carino. Con Pearl. Fa il deficiente. Con lei. Fa le battute stupide. Con Pearl. Pearl. Apprezza. Perché dice. Oh. Come sei carino. Quasi quasi. Ci faccio un pensierino. No. Pearl. Stati ferma. Non fa niente. Sabina si arrabbia come una iena. Perché comunque vede. Che non appoggia da suo marito. Si arrabbia tantissimo. Lo aggredisce. E finiscono per litigare davanti a Pearl. Anche a volte. No. Vabbè. Però per fortuna ci sono le serate speciali sabato sera. Per risolvere appunto le loro questioni. E quindi fanno pace. E una cosa bellissima. Praticamente loro amoreggiavano davanti appunto a questa direttrice di sala. E lei li guardava tutta triste. Secondo me poverina si era appena lasciata con il ragazzo. Con la ragazza. E vedere loro che tutte queste effusioni la faceva stare malissima. Ovviamente a casa con il fatto che c'è la babysitter che appunto si è trasferita da noi. Cucina sempre lei. Ma adesso abbiamo preparato infatti tre torte di compleanno. Perché è arrivata l'ora di far crescere questi bambini. Perché comunque le loro cose le hanno fatte. Vi ho fatto vedere che cosa facevano da bambini. E quindi adesso è ora di farli crescere. Quindi vi presento Noah adolescente. Con questo stile un po' particolare. E qui vi ho messo tutti quanti i suoi outfit. Quindi abbiamo i due quotidiani e quello formale. Lui appunto ha questo mondo di vestire un po' sciatto. Un po' così. E quello formale è così tutto bello elegante. Perché ovviamente l'ha scelto sua sorella Melissa. Che invece ci tiene tantissimo alla moda. Poi sportivo. Quindi lui gioca a calcio. Barra football. Da notte. Da festa. Sempre elegante perché l'ha scelto sua sorella. Poi abbiamo il costume da bagno. Clima caldo e clima freddo. Quindi questo è Noah e i suoi outfit. Poi abbiamo Melissa. Guardate quanto è carina. E lui è molto indecisa sui suoi capelli. Praticamente io ne ho provati un po'. Poi alla fine le ho messo questo. Ho detto no vabbè Melissa mi stai proprio sul cavolo. Cioè sei proprio antipatico con questi capelli. Proprio la perfettina della scuola no. Quella che c'ha le due tizie al lato. Che le camminano a fianco e fanno tutto quanto. Tu no tu no. No tu non sei degno di parlare con la queen. No così. E poi stavo scorrendo avanti. E ho detto no ma aspetta. Ma questi sono perfetti per Melissa. E sono tornati indietro e glielo ho rimessi. Cioè praticamente come scelgo io i capelli. In base alla storia del SIP. Quindi boh. Chiusa questa parentesi. Due quotidiani appunto i primi due. E formale. Poi abbiamo sportivo. Le fa la cheerleader ovviamente. Da notte. Da festa. Costume da bagno. Da caldo. E da freddo. Questi sono gli outfit appunto di Melissa. Ma pure. Come si chiama. Pure Annabelle è cresciuta. Infatti eccola qui. Sì lo so. Mi ricordo un sacco mercoledì. Ma io le ho voluto mettere apposta. Le treccine apposta. Infatti il primo outfit mi ricorda troppo. Mercoledì Adams. Lei ha uno quotidiano. Un formale. Un sportivo. Poi da notte. Da festa. Costume da bagno. O da caldo. Clima freddo. E poi c'è appunto la sua foto in primo piano. Perché mi mancava uno spazio. Poi ho arredato le stanze dei ragazzi. Ovviamente. Noah ha la stanza tutta per sé. Melissa deve dividere la stanza con sua sorella Annabelle. E non vi dico la tragedia. Sia per metterci tutta quanta la roba di Melissa. Ma pure la tragedia che farà Melissa. Perché deve dividere la stanza con sua sorella. E non vuole. Le vuole la stanza tutta per sé. Perché appunto non ci sta tutta la roba che lei ha. E vorrebbe avere la stanza come suo fratello. Questa intanto è la stanza di Noah. Appunto lui ama dipingere diciamo con le bombolette. Fare i graffiti. Ma anche giocare a calcio. Gli piace anche leggere. Quindi praticamente questa è la sua stanza. È disordinato. E ha il pc da gaming. Questa è la stanza di Noah. Poi abbiamo la stanza di Melissa. Tutta perfettina. Tutta da queen. Da principessa. La principessa ama la moda. Lei se non si fosse capito. Ama tantissimo la moda. Ha la sua toeletta personale. Guardate quanto è strapiena di oggetti. C'è di tutto qua sopra. Di tutto. Letteralmente di tutto. E poi in mezzo ho messo la scrivania. Perché comunque ci devo mettere una scrivania per i compiti. Il computer è solo di Melissa. Infatti lo blocca con una password. Annabelle non lo può utilizzare. E poi di qua c'è il lato di Annabelle. Infatti ha questi disegni. Perché Annabelle disegna. E guardate i disegni che ci sono. Cioè io adoro. E c'è il peluche a forma di pipistrello. E poi di qua appunto. Gli ho messo il comodino. Con sopra il gnomo del tristo obiettitore. Questi dischi. I funghetti. Boh un po' di cose per Annabelle. Però lei pretende solo questo spazio. Melissa e Noah vanno molto molto d'accordo. Sia da bambina andavano molto d'accordo. Nero molto legati. Ma anche da adolescenti vanno molto d'accordo. Poi vanno a scuola insieme. Quindi ha maggior ragione. Mentre Annabelle se ne sta per i fatti suoi. Ha il suo diario segreto. Dove scrive tantissimo. Legge tantissimo. Il camera sua è nascosta sotto le coperte. E poi ovviamente. Ha da bambina. Annabelle non fa attività extrascolastiche. Come i suoi fratelli. Lei non farà niente. Resterà a casa a leggere. Mentre invece Melissa. Inizia l'attività da cheerleader. Mentre il suo fratello Noah. Nella squadra di football. Gioca a biglie. Però sempre da sola. Cioè Annabelle per tutto il tempo. La vedrete da sola. A giocare da sola. Per i fatti suoi. Quindi fa i giochi che facevano i suoi fratelli. Praticamente dalla sua età. Però da sola. Perché loro non giocano con lei. Ma già prima non giocavano con lei. Però lei va bene così. Legge. Fa un po' di attività. E poi. Quello che tipo a colazione. Magari si trovano a mangiare tutti quanti insieme. Perché devono andare tutti quanti a scuola allo stesso orario. Noah cerca di intavolare dei discorsi con Annabelle. Però. A parte che Annabelle non è che capisce molto quello che dice. Quello di cui parla. Poi adesso ha il suo gergo. Da adolescente. Così. Annabelle le piace ascoltare. E una che ascolta. Non parla molto. Però le piace molto ascoltare. E Melissa lancia un'occhiataccia a Noah. Proprio così. Cioè. È assurda. Dove praticamente gli dice. Noah. Ma veramente stai facendo. Cioè. Gli stai raccontando queste cose. Che lei non capisce niente. È stupida. È piccola. È stupida. Perché Melissa non ha tatto. Per niente. Non sa che cosa sia il tatto. Come dire. Le cose non sopporta sua sorella. Semplicemente per il fatto che è così diversa da lei. E che deve dividere la stanza con lei. Non la sopporta. E tende. E porta pure Noah. A dire. Ma che cosa le spieghi le cose. Tanto non parla. Poi con il fatto che. Che. Come si chiama. Che Annabelle non parla molto. Con loro. La ritengono una bambina stupida. Invece Annabelle è molto intelligente. Lei. Sì. Ok. Non parla molto. Ma legge tantissimo. Scrive tantissimo. E. E' affezionata tantissimo. Al suo peluche. E. Parla con lui. A posto di parlare con i suoi fratelli. Idioti. È meglio parlare con il peluche. Con il vampiro. No. Col pipistrello. Ma. Passano. Le notti. Ci sono le notti. Ovviamente tutti quanti dormono a casa. Ma Annabelle. Quasi tutte le notti. Cioè. Inizia. Praticamente. Poco dopo il suo compleanno. La notte a sentire delle voci. Ma non delle voci proprio nitide. Dei bisbigli. Dei sussurri. Lontani. E allora lei si alza nel cuore della notte. Con tutte le luci spente. E scende. E questi bisbigli. Sapete da dove arrivano? Dalla. Dalla cantina. Dallo scantinato. Lo scantinato è sempre stato off limits. Per i bambini. Ci possono entrare soltanto Sabrina. E Isaac. Sabrina non vuole che i bambini. Cioè i bambini. I ragazzi. Anche da adolescenti. Entrano. Appunto. Lì sotto. E non hanno mai fatto storie. Ma pure. Allora. Annabelle. L'ha sempre guardato. Cioè. Posto proibito. Io ci voglio andare. A prescide. Perché le vuole fare. Tutte le cose proibite. Le vuole fare. Però. Però. È chiusa a chiave. Una chiave. Che appunto. A Sabrina. E Isaac. Perché. Non si fida. Soprattutto di Annabelle. Non vuole che si fa male. Lì sotto. E quindi. Non vuole che ci vada. Però Annabelle sente queste voci. Ed è curiosa. Prova ad aprire la porta. Ma ovviamente la porta non si apre. Cioè. Non capisce che cosa dicono. Sono dei bisbigli. Però. È curiosa. Dice. Non so. Ma c'è qualcuno lì sotto. Perché sento queste voci. Fatto sta. Passano altre notti. Lei continua a sentire queste voci. Continua a scendere giù. La porta è sempre chiusa. E niente. Non. Cioè. La curiosità è troppa. È troppa. A un certo punto. Una notte di queste. Una presenza. Le appare alle spalle. Ma lei ovviamente non se ne accorge. Infatti. Come vedete. È un fantasma. Una bambina fantasma. Per la precisione. E praticamente. La spaventa. La spaventa. Le fa. Bu. E Annabelle fa un salto. Come vedete. Nella foto è altissimo. E poi. Appunto. La bambina fantasma. Se la ride. Divertita. Perché comunque. Non è che le capita spesso. Di vedere appunto. Altri esseri umani. Però Annabelle. Non se la prende. Si diverte tantissimo. Dice. Mamma mia. È fatto prendere lo spavento. Però tutto a posto. Sono felice. E iniziano a parlare. Infatti. Annabelle. Non ha per niente paura di lei. Inizia a parlare con lei. E mi esce. Nel primo sentimento. Adorante. Annabelle. Vuole solo il meglio per Alexa. E pensa che sia davvero. Meravigliosa. No vabbè. E quindi. Questo. Per dirvi che. Praticamente. Tutte le notti. Annabelle. Si alza. E va a giocare. Con Alexa. Infatti. Esce fuori. A giocare in giardino. E si mettono a giocare insieme. Solo la notte. Ovviamente. Perché lei è un fantasma. Non può farsi vedere. Appunto. Durante il giorno. Ma. Più che altro. Con il fatto che lei. È un fantasma. Nessuno la vede. La vede soltanto. Appunto. Annabelle. L'ho immaginata. Come. L'amico immaginario. Di Annabelle. Quindi. Annabelle. Pensa di. Avere un amico immaginario. Che vede solo lei. Però in realtà. È un fantasma. Anche perché. Noi non ce l'abbiamo gli amici immaginari. Su The Sims 4. E. E quindi. Me lo sono immaginata così. Visto che. Ho detto. Vabbè. E anche la generazione di ottobre. Ha maggior ragione. Le faccio avere un amico immaginario. Fantasma. Che è perfetto. E quindi. Lei. Annabelle. Adesso ha qualcuno con cui giocare. Quindi. Tutte le notti. Si sveglia. E va a giocare. Sempre con Alexa. E giocano. Giocano tantissimo. E niente. Questo. È l'inizio. Della storia di Annabelle. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ho fatto un recap. Ovviamente. Di tutti quanti. Di tutti i membri della famiglia. Perché ovviamente. Come sapete. Io parlo sempre. Di tutti quanti i membri della famiglia. Non mi piace parlare poi. Solo delle rede. E basta. Ma parlo di tutti quanti. Della loro vita. Di quello che fanno. Quindi. Anche nel prossimo aggiornamento. Preparatevi. Perché ovviamente. Vedremo. Che cosa faranno Noah. E Melissa. A scuola. Come si comporteranno. Ma. Ovviamente. Vedremo anche la vita. Di Annabelle da bambino. Quindi. Sì. Continueremo ovviamente. Con la storia. Della generazione di ottobre. Almeno. Con l'inizio. Della storia di ottobre. E niente. Con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con il prossimo. Ciao. 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 Ciao.